Sono Simone di Officina di Cittadinanza e siamo qui con Luca e Andrea. Di cosa vi occupate? Abbiamo un'azienda appistica aperta da poco e siamo ancora in fase di crescita. Motivazioni di questa scelta? L'abbiamo aperto per passione, grazie anche al nostro padre che ci ha trasmesso soprattutto questa passione dovuta da lui. Cerchiamo di continuare non più come passione ma come lavoro. Quali difficoltà avete incontrato nel vostro percorso? Beh, ci sono state varie difficoltà, fra burocrazia, un periodo non facile per l'apicoltura. Tutto questo ha portato a incontrare parecchie difficoltà. Però grazie allo studio e al continuo di aggiornarsi siamo riusciti a affrontare queste difficoltà e andare avanti. Vi sentite realizzati con questo lavoro? Sì, ci sentiamo realizzati e speriamo di continuare nel meglio. Grazie mille.